Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e vorrei parlare in questa rubrica che ho intitolato i video nell'apprendimento, appunto di come utilizzare i video nell'apprendimento. I video sono sempre più importanti nell'apprendimento, però bisogna evitare il pericolo di limitarsi a trasferire una didattica di tipo trasmissivo dall'ambiente della presenza fisica in aula all'ambiente online, quindi non basta mettere online una video lezione per fare un uso soddisfacente del video e delle nuove tecnologie, cioè un uso adeguato a quelle che sono le nostre esigenze didattiche. Bene, in questo primo appuntamento volevo parlare di come sia possibile realizzare in modo molto semplice un video partendo da un'infografica. L'infografica presenta un materiale informativo già ben delineato, con una sua rappresentazione grafica efficace, se scegliamo bene l'infografica, ebbene è sufficiente smontare l'infografica e partendo dall'infografica creare una presentazione con PowerPoint, con Google Presentazioni, con qualsiasi programma e poi registrare la propria voce che commenta alla presentazione che scorre con la tecnica dello screencast. Avremo così ottenuto un video, adesso vedremo questi vari passaggi. Ma prima un accenno, cosa potremo mai fare con questo tipo di procedura? Ebbene, esistono infografiche che trattano qualsiasi tipo di argomento e quindi possiamo realizzare per esempio un video tutorial. In questa infografica per esempio abbiamo una guida a come utilizzare Google Forms per creare sondaggi, questionari e così via. Ecco, usiamo proprio questa infografica per capire come un'infografica tradizionale, altro non è che una serie di slide in sequenza verticale. Queste sono anche numerate, prima slide, seconda slide, terza slide e si legge un'infografica tradizionale, si legge appunto dall'alto verso il basso. È molto semplice smontare questa infografica, io sto usando Microsoft Office Picture Manager, basta appunto sezionarla. Qui abbiamo invece un'infografica di carattere informativo che riporta dati demografici relativi alla popolazione mondiale, come si vede anche qui una serie di riquadri e così pensi si può realizzare una video lezione a partire dallo smontaggio di questa infografica. Vediamo altri esempi. Qui abbiamo invece una infografica di carattere demografico economico che tratta della Germania, questa tra l'altro è il copyright, anche in questo caso possiamo smontarla, questo è un po' più difficile, e possiamo realizzare una lezione in carattere geopolitico, geografia economica sulla Germania. Oppure abbiamo qui un'infografica che spiega come avviene l'elezione del Presidente del Parlamento in una Repubblica italiana. Come si vede anche qui possiamo smontare queste infografiche in almeno tre parti e poi commentare con la nostra voce ciascuna parte, illustrando agli studenti l'elezione del Presidente del Parlamento, quindi educazione e cittadinanza, e nel mentre registrando tutto con un programma come Screencastomatica, Powersoft e via dicendo. Vediamo un altro esempio, questa è un'infografica sui conti pubblici della Repubblica italiana che si può smontare facilmente e possiamo spiegare agli alunni alcuni, sempre nell'ambito per esempio di cittadinanza e Costituzione, alcuni dei concetti chiave dell'economia e contemporaneamente anche la situazione attuale dell'Italia. Questa è una bellissima infografica sulla peste di Londra nel 665, guardate si presta proprio alla realizzazione di una infografica, chiedo scusa, di una presentazione per poi realizzare una video lezione. Qui abbiamo invece un'infografica che mostra l'evoluzione della tecnologia militare, in questo caso delle armi individuali attraverso i secoli, si parte dal 1066, la battaglia di Astin se non sbaglio, per arrivare fino al 2014. Ecco, qui si può per esempio anche affidare a un alunno l'incarico di smontare questa infografica, realizzare una presentazione e poi realizzare una breve video lezione che spieghi questa evoluzione, o a un gruppo di alunni che si dovranno anche documentare. Vi presento poi quest'ultima infografica e poi la finiamo con gli esempi. Ecco, questo abbiamo l'edipo re in inglese, quindi lo studente a cui si può affidare questo incarico, se non è il docente a voler realizzare questa lezione, può realizzare un vero e proprio riassunto video, sfruttando questa infografica dell'edipo re e contemporaneamente esercitarsi nel CLIL o comunque proporre anche la traduzione di questo testo. Vedete, l'infografica riporta tutta la storia, si può dividere, ecco, questa potrebbe essere la prima diapositiva, questa la seconda, questa la terza, eccetera, eccetera. Anche qui è un esercizio molto interessante. Tra l'altro queste infografiche sono bellissime e ce ne sono centinaia su tutte le opere di un certo rilievo della letteratura mondiale. Bene, vediamo adesso come procedere. Torniamo alla nostra infografica di partenza, dovremo scomporla in, vediamo, dovremo fare un video tutorial in 8, 9, in 10, in 10 slide. Come fare? Sono programmi molto semplici, non c'è nemmeno bisogno di utilizzare un vero e proprio programma di fotoritocco, basta, nel caso di Microsoft Office, ricollere al ritaglio. La si può ritagliare direttamente nel programma di presentazioni, ma ecco, ritaglia, vedete, si riempisce l'infografica, io adesso ne ritaglio, ritaglio la prima e facciamo più piccola che non riesco, ecco qui, ritagliamo la prima, clicco su ok e come vedete riporta dimensioni. Come vedete ho ritagliato la mia prima immagine che potrebbe essere appunto il contenuto della mia prima slide. Adesso le taglierò tutte e poi le monterò in una presentazione. Proviamo a salvarla, per salvarla faccio salva con nome, la salviamo in una cartella che chiameremo infografica, ecco qua, la chiamerò info1 in modo da conservare l'ordine della sequenza. Poi anziché salvare, torno indietro in modo da poter nuovamente lavorare senza dover salvare, riaprire l'immagine e così via. Quindi salviamo adesso, tagliamo adesso la seconda parte dell'infografica che sarà la nostra seconda slide, ecco fatto, salviamo con nome, la chiameremo info2, torniamo indietro, annulliamoci l'operazione e così via. Bene, ho finito il mio lavoro e con la cartella infografica la sequenza di infografiche che adesso devo montare in una presentazione. Io userò Google Presentazioni, quindi nuovo, Presentazione Google, naturalmente chiunque può usare il programma di presentazione che preferisce, adesso lasciamo stare il titolo, qui metteremo il titolo, ecco poi eliminiamo questo. Ecco, a questo punto devo inserire le immagini. Per fare prima posso anche ricorrere al trascinamento, qui metterò la prima infografica, poi ognuno sulla sistema come meglio crede, alla grandezza che le tiene opportune, adesso la accenderò orizzontalmente e verticalmente e basta. Creiamo una seconda infografica e riempiamo tutto quanto, adesso andiamo veloci e così via. Un'altra infografica ancora, qui non l'ho cancellato, sta robaccia, sistemiamo la nostra infografica e le caricherò tutte e cinque. Come vedete è molto semplice, non devo stare a preoccuparmi di ottenere chissà quali effetti, al limite posso dare uno sfondo. Ecco qua, abbiamo quasi finito. forse non era neanche il caso, ma insomma completiamo questa operazione, le sistemiamo come crediamo, diamo lo sfondo, salviamo la nostra presentazione e a questo punto siamo pronti per girare il nostro video. Lanciamo la presentazione e utilizzando un programma come quello che sto utilizzando io per esempio per realizzare questo breve video, in questo caso Screen Customatic, ma ce ne sono tantissimi, ecco utilizzando uno di questi programmi, poi metterò nell'info box del video, metterò il link a dei video tutorial, degli ottimi video tutorial su Screen Customatic e su altre applicazioni del genere che si possono usare liberamente. Quindi a questo punto lancerò il mio programma di Screen Recording e proprio come sto facendo adesso, farò scorrere la presentazione commentando vocalmente, con la mia voce, spiegando con la mia voce quello che succede, in questo caso un video tutorial, quindi le istruzioni per creare il nostro modulo. Bene, concludiamo allora. Possiamo realizzare video tutorial come abbiamo appena visto, possiamo realizzare video esplicativi informativi, aveste visto tra le tante infografiche che ho presentato come esempio, vennero per esempio di quelle relative a un evento storico, o a dati demografici, o a dati economici. Possiamo realizzare video sintesi narrative, quindi video riassunti, per esempio di opere letterarie, oppure sintesi cronologiche, ci sono infografiche di storia sulla prima guerra mondiale, e quindi una sintesi, video sintesi cronologica. Brevi lezioni su un argomento qualsiasi, spiegazioni di dati, come dicevo, possiamo soprattutto dare a un singolo studente, o a gruppi di studenti, l'incarico di documentarsi, di ricercare determinate infografiche, così imparano a cercare, con una risoluzione accettabile, di smontarle, di creare una presentazione, di creare poi un video. Ecco, ciascun gruppo può preparare due, tre di queste brevi video lezioni su un determinato tema disciplinare, interdisciplinare, e via dicendo. Insomma, è molto interessante. Non è complicato da realizzare, anche perché lo screencasting è il modo più semplice che ci sia per creare dei video. Non bisogna saper fare riprese, non bisogna fare il video editing, se non si vuole, se si vuole si può fare a meno, io ne faccio a meno perché ho già troppe cose da fare, non bisogna preoccuparsi della luce, delle riprese, dicevo, della registrazione sonora, del montaggio, del video editing, e quindi alla portata di tutti. Grazie, buona serata.